Il Cassino è il prossimo avversario dei Grigio Rossi. La squadra allenata da Imperio Antonio Carcione ha avuto un buon inizio di campionato ottenendo sette punti in cinque gare, frutto di due vittorie ed un pareggio. Ha ottenuto il massimo tra le Muramiche, dove ha centrato due vittorie con Tivoli e Casertana e pareggiando domenica scorsa contro la Vista Artera. Una squadra giovane con un'età media di 21 anni e mezzo, ma arricchita da alcuni giocatori esperti che stanno dando un concreto apporto facendo registrare una mini serie positiva di due giornate e quattro punti ottenuti. In classifica, con i suoi sette punti, occupa la decima posizione. Sei punti ottenuti in casa, un punto in trasferta. Bilancio in parità tra gol fatti e subiti. Otto reti realizzate, di cui cinque in casa e tre in trasferta. Otto i gol subiti, di cui due in casa e sei in trasferta, confermando una buona determinazione nelle gare interne. Con una media gol di 1,6 reti a partita, di cui una sola marcatura sul calcio di rigore, Hainingre Lotti, il suo miglior realizzatore con quattro reti, segue d'Alessandris con tre e tribelli con una. Cassino ed Angri hanno già incrociato il proprio cammino nella stagione 2005-2006, con i ciociari promossi in Serie C e i grigio-rossi a chiudere il girone al sesto posto. La doppia sfida vide prevalere i bianco-celesti per 3-1 all'andata e per 2-0 a ritorno. Ora è un altro campionato, un'altra storia da scrivere. Domenica al Gino Salveti le due squadre si ritroveranno contro per una nuova sfida, un nuovo inizio tra conferme e necessità.